E si volta pagina il momento del grande affare, delle occasioni firmate Procar. Sono a Torino in Corso Potenza 194 dove c'è un parco nutrito di autovetture d'occasione ma occasione si fa per dire, moltissime sono aziendali recentissime, freschissime, pronte per voi e soprattutto selezionate e garantite. Ma Procar non vende solo usato ma anche nuovo. Una breve selezione per voi, seguitemi con molta attenzione. E cominciamo da una bella vettura, ricercate un BMW 218 Coupé automatico del 2015, pensate soltanto 70.000 km. E la volta di un Mercedes CLA 200 CDI con 136 CV del 2015 a solo 59.000 km e il prezzo interessante 19.800 euro. Proseguiamo con la selezione Mercedes parlando di C200 CDI Station Wagon del 2015 automatico. Ancora Mercedes GLA 200 CDI del 2014 automatico, euro 6, ottimo prezzo. È davvero spettacolare questa Golf Cabrio 1.6 TDI del 2012, vi garantisco pochissimi chilometri, venite a vederla. Non mancano le piccoline da Procar, per esempio Fiat 500 Cabrio 1.2 Lounge del 2015 con soli 24.000 km. pochissimi chilometri davvero, soltanto 50.000 per questa Mini Cooper 1.5 per neopatentati, euro 6 ovviamente. Unico proprietario, tenuta benissimo, questa Mini Paceman del 2016 automatica con tetto apribile, pensate a solo 19.000 km, 15.700 euro il suo prezzo. Anche Golf 7 con cambio DSG 1.6 TDI del 2014, prezzo molto interessante. Ricercata questa Evoque 2.0 TDI del 2016 con 90.000 km a 24.800 euro. È la volta di una Mazda CX-3 1.5 TDI del 2015 ad un prezzo molto invitante. È la volta di una Scirocco 1.4 TSI 160 CV benzina con soli 80.000 km. Ascoltate bene, soltanto 21.900 euro per questo X3 S-Drive del 2016. Pochissimi chilometri davvero per questa BMW 320 Diesel Touring del 2015 con cambio manuale, accanto un Jeep Renegade automatico 4WD del 2015 con soli 50.000 km. Sono belle vetture ricercate di qualità, unico proprietario, pochissimi chilometri, continuo a ribadire. È la volta di una Mercedes-Benz classe A 200 CDI Sport Euro 6. E concludiamo con un bellissimo Touran 7 posti 1.6 TDI, naturalmente di casa Volkswagen, ad un prezzo molto interessante. E questa era una breve ma bella selezione di autovetture d'occasione che Proker mette a vostra completa disposizione. Vi ricordo, multimarche, ce ne sono molte di più. Venite a scoprirle in corso Potenza 194. Vi ricordo che non vende solo autovetture nuove usate multimarche, ma le acquista anche pagamento immediato. Vi offre anche l'assistenza, quindi un servizio a 360 gradi. Se volete saperne di più www.procarautomobili.it. Alla prossima!